Il perbenismo più pericoloso è quello che uno ha dentro, è quello che uno ha nel cuore. Il perbenismo più pericoloso è quello che ha altri idoli ed io essenzialmente ne vedo due idoli, che poi potrebbe essere anche uno. I sordi e l'apparenza. L'apparenza può essere anche rovescio, può andare a fare la prima comunione con le scappe strappate, c'è l'idolatria, non c'è il perbenismo. Tu hai risposto? Benissimo.